Musica Oggi parliamo di mutui e di prestiti, bene ritrovati ad una nuova puntata dei vostri soldi, questa è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata ai temi della finanza personale, se state pensando di comprare casa attraverso un mutuo, di ristrutturarla attraverso un mutuo, state pensando alla cessione del quinto ai prestiti, questa non solo è la trasmissione che fa per voi ma è anche la puntata che fa per voi e noi vi mettiamo a disposizione gli esperti più autorevoli di tantissimi settori, dai mutui ai prestiti, dalle carte di credito alle assicurazioni e polizze, gli esperti li potete contattare chiamandoci al numero di centralino 0258 219585, vedete nel cartello tutti i nostri contatti, gli sms sono attesi al 366-6282-858, la nostra email, i vostri soldi, chiocciolaclass.it, il nostro nuovissimo account twitter è chiocciolaclass.it, subito gli argomenti della puntata di oggi, vi dicevo nella prima parte del mondo dei mutui, parleremo dell'osservatorio CRIF-ASSOFIN che mette in evidenza come nel primo trimestre di quest'anno i mutui sono andati molto bene per l'acquisto della casa, più 6%, ma per le ristrutturazioni sono addirittura volati con un incremento a doppia cifra, più 12%, poi come sempre il secondo argomento riguarda un po' a cavallo tra la prima e la seconda parte, infatti parleremo dei tassi di default, faremo il punto su quelli per quanto riguarda i mutui che sono al 2% e per quanto riguarda invece i prestiti personali che in quel caso vedono però un default decisamente più alto. Nella seconda parte ci occuperemo in particolare di credito al consumo e faremo il punto sui prestiti che rimangono aggrappati alle auto perché proprio l'acquisto di auto o nuova o usata che sta consentendo al credito al consumo di reggere perché ancora il dato è negativo nel primo trimestre 2014 un meno 0,2%. Subito introduco la squadra dei vostri soldi per quanto riguarda il mondo dei mutui, accanto a me c'è Guido Bertolino di mutuisupermarket.it, ben ritrovato Guido. Grazie, buonasera. Accanto a Guido Bertolino che è uno dei volti noti della nostra trasmissione, un altro volt amico della trasmissione I vostri soldi, quello di William Girivaldi, ricordo essere responsabile di sviluppo prodotti banca di Banca Mediolanum, ben ritrovato William. Grazie, buonasera. Comincerei proprio dal nostro Guido Bertolino con il chiedere di commentare i dati dell'osservatorio CRIF Assofin poi avremo nella seconda parte proprio un rappresentante di Assofin che ci parlerà in particolare del credito al consumo ma per quanto riguarda i mutui, nel primo trimestre aggiungiamo un altro dato, ce ne sono tante le statistiche che stanno arrivando, che evidenzia un incremento del 6% per l'acquisto della casa ma addirittura due cifre più 12% per le ristrutturazioni. Ci avevi già detto qualcosa nelle scorse puntate quando eri stato nostro gratissimo ospite Guido? Allora, questi dati in realtà confermano una tendenza che anche tu al tuo osservatorio avevi già individuato. Assolutamente sì, in effetti si sta realizzando con qualche mese di ritardo quell'incremento della domanda che si registra ormai dalla seconda metà del 2013 e finalmente arrivano le erogazioni. Il più 6, 6 riguardo i mutui acquisto è effettivamente un dato positivo, un po' inferiore rispetto alla crescita della domanda che si è assestata nell'ultimo anno intorno al 10%, questo è dovuto anche un po' alla debolezza ancora del mercato immobiliare. L'exploit è stato fatto dai cosiddetti altri mutui, questo più 12% che rappresenta non solo la ristrutturazione in realtà ma anche surroga, sostituzioni più liquidità o anche mutui di liquidità che sono stati, le cui erogazioni sono aumentate molto un po' per ovviamente gli incentivi fiscali al mondo della ristrutturazione un po' anche perché la riduzione degli spread ha reso più conveniente a chi ha già avuto un mutuo andarlo a sostituire tramite la surroga o la sostituzione. Adesso arriviamo anche alle tendenze per quanto riguarda gli spread ma allora chiedo proprio al rappresentante del mondo delle banche che oggi è con noi quindi effettivamente questi altri mutui perché in modo molto preciso Guido Bertolino ha detto il più 6 è per l'acquisto della casa, il più 12 è per gli altri mutui che noi abbiamo identificato come mutui per le ristrutturazioni, in realtà ci sono anche le surroghe. Voi puntate molto sulle ristrutturazioni, è così William? Noi puntiamo molto sulle ristrutturazioni perché è l'occasione per i clienti di fare 3-4 cose insieme sistemare la propria casa che poi è il bene più importante per i clienti risparmiare anche da un punto di vista di consumo energetico dell'abitazione se si fanno certi tipi di interventi e avere metà del costo rimborsato dallo Stato. Per noi è anche un volano per far ripartire l'economia per cui stiamo investendo molto sia in termini di comunicazione che in termini di spread, riduzione di spread che abbiamo ulteriormente ridotto. Allora arriviamo appunto al discorso che origina poi questo più 6% per quanto riguarda l'acquisto della prima casa o della seconda anche, il più 12% per quanto riguarda gli altri mutui. Riparti Italia avete chiamato questa linea di mutui per le ristrutturazioni e a proposito di riduzione degli spread, William, effettivamente in quel caso avete ridotto parecchio. Sì, praticamente ci siamo portati al 2,10% ai minimi del mercato considerando che anche tutte le altre spese, istruttoria, perizia e eventuali commissioni di gestione che altre banche in alcuni casi applicano sono ai minimi e questo proprio in virtù del fatto che si vuole dare un messaggio molto forte, un segnale molto forte. In più abbiamo introdotto anche un'ulteriore opzione che ha già un mutuo, normalmente non può accendere un altro per effettuare la ristrutturazione e quindi noi abbiamo deciso di unificare queste problematiche e dire ai clienti se avete già un mutuo presso un'altra banca, presso Banca Mediolano, portatelo da noi, noi facciamo lo scambio, ovvero sostituiamo il vostro mutuo, se avete bisogno di fare ristrutturazione vi diamo ulteriore liquidità e pagate il 2,10%. Stiamo proprio vedendo nel cartello questo riparti Italia, lo spread è al 2,10% sia per chi compra un appartamento e ha già il 50% del valore, sia per chi invece ha decisamente una liquidità inferiore. La scelta quindi che vedo anche originata da poco, il 20 giugno viene indicata, dove vuole andare esattamente? E' quello che dicevo, risolvere le esigenze di un maggior numero di persone, quindi non soltanto chi deve effettuare la ristrutturazione e da l'immobile libero da ogni garanzia immobiliare, ma anche chi ha già impegnato l'immobile con un altro mutuo, per cui quello che noi vogliamo fare è permettere al maggior numero di persone possibile di accedere a questo genere di E questo per quanto riguarda la ristrutturazione, se invece andiamo avanti sugli altri mutui, proprio per l'acquisto della casa, sempre facendo l'esempio di Banca Mediolanum, vediamo che gli spread diventano molto ghiotti se si è nella clientela top. Assolutamente, noi abbiamo deciso di premiare i nostri migliori clienti, però offrendo condizioni di assoluto vantaggio anche per la clientela, chiamiamola così, standard. Tant'è che i risultati ci stanno dando ragione, noi abbiamo introdotto questa nuova offerta a metà aprile, ne avevamo proprio parlato e abbiamo visto che c'è stato un incremento delle richieste del 36% di mutui proprio sulle fasce di clientela che hanno avuto il price migliore, ma anche sulle altre siamo intorno a un 12%, per cui assolutamente, se guardiamo i dati che abbiamo visto prima, il doppio rispetto a quello che sono le medie di mercato. Ecco, su questo coinvolgo immediatamente Guido Bertolino, beh, più 36%, stiamo parlando evidentemente di una clientela più benestante nel momento in cui finisce nella sezione top di Banca Mediolanum e immagino anche quindi ristretta numericamente, però comunque un più 36% interessante rispetto al più 12% che sostanzialmente quindi è il doppio rispetto al dato di CRIF. Tutto questo si origina, lo dicevamo, dalla riduzione degli spread, perché effettivamente rispetto all'inizio degli anni gli spread sono calati. In questo mese di giugno ci avevi già avvertito di non aspettarci niente di che, perché il grosso sarebbe stato già alle spalle, visto che a maggio sono tante le banche che hanno ridotto, ci sono dei repricing, come dite voi a detti i lavori, cioè una riduzione degli spread? Sì, c'è stato, gli ultimi repricing risalgono proprio un paio di giorni fa, in particolare sono stati quelli di BNL e ING Direct che hanno ridotto un po' gli spread avvicinandosi appunto a quella soglia che oramai è del 2, 2,10 per i mutui al di sotto del, entro il 50% di long to value, ovvero la percentuale di intervento sul valore dell'immobile, il rapporto tra importo del mutuo e valore dell'immobile, e si sono avvicinate al 2,40 per quanto riguarda i mutui con percentuale di intervento superiore fino all'80. In particolare quello che notiamo è una particolare strategia aggressiva sui long to value bassi, entro il 50% delle banche tradizionali, infatti se guardiamo la top 5 abbiamo BNL, Unicredit, BPM, Cariparma e Intesa San Paolo. Hanno scalzato le banche online? Non c'è una banca online, bisogna dire che, tra virgolette, c'è un piccolo trucco, in realtà le richieste di mutuo entro il 50% dell'on to value rappresentano grosso modo il 17-18% della domanda totale e un po' di più riguardo le erogazioni, arrivano al 20%, quindi un mutuo su 5 ha effettivamente accesso a quel tipo di spread. Se andiamo a guardare soglie più elevate, quindi sull'80%, rivediamo comparire le online. Esatto, perché la prima è proprio una banca online. La prima è proprio una banca online, che è WeBank del gruppo BPM, poi abbiamo BNL, Intesa San Paolo, Cariparma e Indirect. In questo caso gli spread si assestano tutti intorno al 2,45-2,50, che comunque sono sempre molto ridotti, alla fine danno un TAEG, quindi un costo complessivo del mutuo, ampiamente al di sotto del 3%, che è un minimo storico in Italia, almeno da quando esiste l'euro. Che oggettivamente non è male. La vostra scelta per quanto riguarda il fatto di attenere comunque degli spread che sono in linea, perché vi state tutti praticamente allineando, stiamo notando un livellamento. Cosa ci dobbiamo aspettare per settembre, William? Ci saranno reprising oppure... Noi abbiamo intenzione di rimanere sempre al top del mercato. Fra l'altro approfitto per dire che questa situazione delle banche è chiaramente dovuta al calo dei rendimenti sui titoli di Stato. Ormai i rendimenti da tesoreria, che erano quelli che fruttavano, che permettevano anche di sistemare il conto economico delle banche, hanno permesso di sistemare il conto economico delle banche negli ultimi anni, sono bassissimi. Per cui l'unica alternativa all'investimento di tesoreria, ormai sappiamo i titoli di Stato, per arrivare al 2 bisogna arrivare a 7 anni, per cui sono molto bassi, è ritornare all'impiego, ritornare al credito e quindi è preferibile ridurre gli spread, ma ottenere rendimenti superiori a quelli dei titoli di Stato adesso. Per cui ci aspettiamo molta competizione sugli LTV bassi, perché è là che le banche rischiano meno, si sono scottate, siamo ancora in una fase di uscita dal cosiddetto credit crunch. Ci sono gli stress test della BCE, ovviamente in agguato. Ci sono alcune banche ancora traballanti, per cui competizione su alcuni segmenti specifici, però noi siamo una banca solida, saremo in grado di rimanere al top delle condizioni. Chissà se a settembre il nostro William Geribali ritornerà e ci racconterà i nuovi reprising. Intanto abbiamo inviato il nostro Davide Cancarini tra gli italiani, soprattutto tra i giovani, per sentire quanto ne sanno del mondo dei mutui. Ciao Carla, ci troviamo in Università Bocconia a Milano in compagnia di Alessandro. Alessandro, tu hai un mutuo? No, non ce l'ho. Hai intenzione in futuro di chiederlo? Dipende dalla situazione, forse se lo comprerò a casa, immagino che sì. Quali pensi che possono essere le principali difficoltà che un giovane come te può incontrare nell'ottenere un mutuo? Oddio, le richieste che avranno in termini di garanzia, immagino, che tipo di lavoro, è per questo che sono in bocca da studiare, immagino. Secondo te per i giovani dovrebbero essere pensate delle tipologie di mutui più accessibili, soprattutto in un momento come questo in cui si ha molta difficoltà a trovare un lavoro a tempo indeterminato? Credo proprio di sì, però purtroppo non ho le possibilità di poter dire quali siano le cose su cui lavorare. Però assolutamente sì, la situazione non dico drammatica, ma è difficile per giovani senza lavoro e bisognerebbe trovare delle soluzioni contestuali. Ringraziamo il nostro ospite. Grazie a Davide Cancarini che ritroveremo domani e questo ci consente di entrare subito nel secondo argomento di questa prima parte, ovvero i tassi di default, perché Guido, poi ne parleremo anche nell'ambito della sezione del credito al consumo. Dobbiamo dire che nel mondo dei mutui, paradossalmente ci dice l'osservatorio CRIF-ASSOFIN, la situazione anche migliora, siamo passati da un tasso del 2% all'1,9, che sostanzialmente è stabile, vedo anche William Giribaldi che fa dei cenni, però è sempre un segnale, se vogliamo, quantomeno di non incremento. Sì, sì, oramai è stabile da oltre un anno, perché già dal primo trimestre 2013 si era assestato il tasso di default al 2%, l'anno precedente era all'1,6 e prima ancora più basso ovviamente. In realtà il cosiddetto credit crunch ha prodotto proprio questo effetto, un'attenzione molto più elevata del passato sul merito creditizio delle singole operazioni da finanziare, quindi sulla capacità di rimborso dei mutuatari da parte delle banche. Questa maggiore selezione ha fatto sì che il rischio totale, quindi il tasso di default, rimanesse sotto controllo. Vediamo subito, conferma chi rappresenta le banche, quindi se effettivamente ormai erogate con grande prudenze per questo, nonostante la crisi pesante, lo diceva anche l'amico ai microfoni di Davide Cancarini, quindi con i giovani che non hanno ancora dei posti di lavoro a tempo indeterminato, però si riesce a mantenere i tassi di default su livelli assolutamente accettabili. Sì certo, fra l'altro c'è stata una contrazione fortissima del mercato dal 2011 al 2012, addirittura da 49 miliardi di erogato complessivo a 25 miliardi, poi c'è stato un certo assestamento e anche le politiche di assunzione del rischio si sono ritarate in questi termini. Noi invece siamo andati un po' in controtendenza, non abbiamo avuto questo tipo di andamento, la nostra erogazione è stata in continua crescita, frutto fondamentalmente del fatto che per noi i mutui e i prestiti sono un tassello nell'ambito di una relazione completa con il cliente, per cui abbiamo diversi elementi di valutazione. Tant'è che i nostri tassi di default si assestano a meno di un quarto di quelli di mercato, quindi siamo ben al di sotto dello 0,5. Sotto 0,5, se già il 2% vista la crisi sembrava un buon dato, ci dice William Giribaldi, che è addirittura migliore. Guido, ci manca, prima di passare alle richieste ai nostri telespettatori, di analizzare rapidamente quali sono i top 5, i 5 migliori mutui a tasso fisso, che ormai vengono richiesti sempre meno, perché sempre dall'osservatorio CRIFASSOFIN leggiamo che il 59% e il 60% dei mutui richiesti nell'inizio 2014 sono a tasso variabile. Però per chi continuasse a puntare sulla sicurezza, quali sono i migliori tassi fissi? Sì, i migliori tassi fissi alla fine hanno tutti degli spread relativamente simili a quelli dei mutui tassi variabili, ovviamente più alti, sul 2,40-2,50. abbiamo Intesa San Paolo, WeBank, BPM, Cariparma, Cariparma in particolare ha una promozione un po' particolare che nei primi due anni dà un tasso fisso scontatissimo al 2,25 e poi successivamente invece un tasso più normale con uno spread del 2,80. E questo comunque porta ad avere delle offerte sempre al di sotto del 5% in termini di TAE, che anche questo è un minimo storico praticamente, lo si è toccato questo livello a fine 2010, quando c'erano le offerte al 3,99-4% di poche banche che ormai... Ormai sono però ricordi che sembrano di altre ere geologiche. Andiamo alle richieste ai nostri telespettatori che sono arrivati all'indirizzo di posta elettronica i vostri soldi, chiocciolaclass.it, vi ricordo anche il nostro nuovissimo account Twitter, chiocciola i vostri soldi. Iniziamo dal signor Massimo, chiedo a Guido di dare una risposta, c'è una penalità, se decido di restituire in modo anticipato il mio mutuo, a quanto ammonta può arrivare al 5%, mi sembra un po' esagerato. No, decisamente è troppo alta quella cifra. Quando vigevano le penali di estinzione non superavano solitamente l'1%, bisogna dire che dal 2007 con il decreto Bersani le penali di estinzione sono state abolite su tutti i mutui casa, quindi acquisto e ristrutturazione relativa alla casa. Vi potrebbe sussistere ancora su qualche mutuo di liquidità, ad esempio, però sicuramente non quelle cifre. Non a queste cifre, quindi possiamo rassicurare il nostro amico il signor Massimo. Vittoria invece ci manda una mail molto interessante, questa è nell'ambito di una puntata che abbiamo fatto proprio pochi giorni fa sulle conseguenze a livello patrimoniale del divorzio breve. Vittoria dice, posso annullare la fidegliussione da un mutuo? Allora, è molto difficile riuscirla a ottenere con lo stesso istituto. Una soluzione semplice in presenza di una fidegliussione è la surroga. Nel momento in cui si surroga il mutuo, i mutuatari devono essere gli stessi, ma i garanti, appunto, i fidegliussori possono benissimo essere eliminati. Quindi la surroga potrebbe essere una buona soluzione, anche rapida, per ottenere... Molto bene, quindi anche magari meno scartoffe burocratiche da compilare per la nostra amica. Altra telespettatrice, sempre alla nostra email, i vostri soldi, chioccioaclass.it, Rita, ci scrive, durante la perizia immobiliare per la concessione del mutuo, è proprio necessario che ci sia l'acquirente presente? Si sa perché non lo vuole, ma al di là di questo... Decisamente no. Diciamo che poi dipende caso per caso, nel caso in cui la perizia sia effettivamente pagata l'acquirente, l'acquirente ha il diritto di presenziare, ma molte banche, ad esempio, pagano loro la perizia, la comprendono nelle spese del mutuo, in quel caso assolutamente non ha né il diritto l'acquirente di essere presente, e non è necessario, ovviamente. Viglian Geribaldi, siamo in conclusione di questa prima parte. Prospettive per il 2014 nella seconda parte. Come andrà? Secondo noi sarà ancora una ripresa molto graduale. Le percentuali che stiamo vedendo di incremento sull'erogato sono sicuramente incoraggianti, frutto anche un po' della dinamica dell'offerta, quindi di come stanno approcciando diversamente le banche al mercato e anche probabilmente il calo dei prezzi degli immobili favorisce la compraventa. Per cui sicuramente incoraggiante, non aspettiamoci delle esplosioni che poi ci riportano brevemente ai livelli di 3-4 anni fa. Quindi non aspettarsi delle esplosioni, nonostante questo più 12% nei primi tre mesi degli altri mutui, quindi la surroga è ovviamente a ristrutturazione. Grazie al dottor William Giribaldi, che ricordo essere responsabile sviluppo prodotti banca di Banca Mediolanum, che aspetto presto. Grazie davvero. Invece rimaniamo in compagnia di Guido Bertolino per parlare subito dopo la pubblicità del mondo del credito al consumo. Grazie.